Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite Io sono loggato da PC perché purtroppo questo glitch che vi farò vedere Non è possibile farlo per tutti gli utenti che stanno giocando dalle varie console Quindi da Playstation, Xbox, Switch o anche Mobile Solo i giocatori da PC riescono a fare questo glitch E come avrete letto dal titolo si tratta del pacchetto Leggende Polari Chi vede i miei video sa che il 23 di dicembre uscirà ufficialmente questo pacchetto Ma oggi vi faccio vedere come ottenerlo in anticipo Quindi come giocare con le 4 skin che sono contenute nel pacchetto in anticipo Basta fare una semplicissima operazione Infatti andiamo a settare la nostra data Apriamo la finestra data e ora Ecco qui, mettiamo su impostata da ora automaticamente Mettiamo disattivato E andiamo a modificare manualmente Qui mettiamo la data del 24 E mettiamo su modifica Guardate che cosa succede BAM! Eccolo lì! Lo abbiamo spizzato per pochi secondi Ora ci basterà cliccare su per esempio Una qualsiasi skin presente all'interno del negozio oggetti Andiamo su indietro Offerte temporanee Ed ecco qui il nostro pacchettozzo Regà Pacchetto Leggende Eccolo qui Leggende Polari 24,99 dollari Sarebbero riportati in euro Sempre 24,99 euro Per quanto riguarda il gioco di Fortnite Come già vi avevo detto Contiene operazione Zabbaglione congelato Pesce secco congelato L'elfo che include direttamente Anche lo stile aggiuntivo Lo stile menti Poi abbiamo il costume Dilaniator Che sarebbe il costume del cactus Più il dorso decorativo Sempre del cactus Però possiamo anche esaminare gli oggetti Eccoli qui! Abbiamo la nostra operazione Zabbaglione congelata Che bello regà Hanno implementato questa cosa Che si possono vedere i pacchetti La vediamo tutti in anteprima Andiamo a vedere pesce secco Scrivetemi qua sotto nei commenti Qual è la skin Che secondo voi Diciamo è la più figa All'interno di questo pacchetto E fatemi sapere anche Se lo andrete a scioppare Oppure no Ecco qui il cactus Con i suoi due stili Si chiamerà Dilaniator Questa skin qui Abbiamo poi successivamente Il backpack Sempre riferimento al cactus Ma ovviamente possiamo Metterlo a chiunque E poi abbiamo lui Signori miei Abbiamo l'elfetto Di Fortnite Ovviamente ci verrà fornito Anche con lo stile minti Eccolo qui il nostro stile minti Guardate che bello questo stile Considerando che era un concept Fatto da un utente Così per gioco Poi invece è stato veramente Riportato in game Avremo anche Aspettate Ok Non me lo fa selezionare Avremo anche questi due Backpack Eccoli qua E poi L'emote Del signor Cactus Che paura Quindi signori Mi raccomando Se volete Potete shopparlo tranquillamente Io non lo shoppo Perché non sono con il mio account Me l'hanno presentato Questo account Per fare questo video Però se voi volete shopparlo Potete farlo tranquillamente Mi raccomando Condividete questo video Almeno anche i vostri amici Sanno di questa Importante Glitch Importante novità Così se vogliono Possono ottenere anche loro Questo pacchetto In anticipo Mi raccomando Perciò Un bel like a questo video Condividetelo con tutti i vostri amici Iscrivete al canale Attivate le campanelle Le notifiche E noi ci vediamo più tardi Con altri nuovi video E le belle Messa me